Adesso truca Andrea Macchione, CEO di Domori, e a Gianpaolo Grossi, CEO di Starbucks. Benvenuti, ovviamente non vi posso offrire un caffè, però... Dunque sì, in effetti diciamo un po' una sfida all'ultima tazzina, anche se Domori... Domori, forse l'ultimo bicchiere, Domori è ovviamente oltre che a fare, a essere controllato da Illy e distribuire una serie di prodotti di Illy, è specializzato nella cioccolata di altissima qualità. Mentre ovviamente Starbucks, la conoscete tutti, prevedo un caffè da Starbucks, ovviamente ce l'avete preso tutti. Allora io partirei dal dottor Macchione, riprendere dopo il lockdown è stato dolce? Visto che parli cioccolati... Sì, è stato dolce ed è stato impegnativo, perché oggettivamente nulla è più come prima. Quando si parla di rinascimento bisogna rendersi conto che il coronavirus è stato come affrontare la terza guerra mondiale. A livello sociale, a livello economico, ha cambiato tutti i nostri equilibri. Sentivo prima il presidente di Conn che faceva riferimento agli abbracci. Io ho sempre lavorato in azienda e per quattro mesi non ho abbracciato i miei figli. Quindi penso che questo sia stata una prova a livello fisico, a livello mentale, che ha cambiato tutti quanti noi. Io penso che aziende come la nostra, che ha fatto da sempre della biodiversità, della sostenibilità, anzi invito il presidente a venirci a trovare senza passare dall'ufficio stampa, perché noi da sempre abbiamo i rapporti diretti con i farmers e quindi abbiamo un premio di mercato molto più alto. Lo facciamo da sempre e abbiamo enfatizzato le caratteristiche tipiche dei nostri soci, cioè della famiglia Ildi, Domori, che è stato quello di continuare a fare innovazione, di spingere sulla qualità, di aumentare il coraggio, di tentare di modificare parte del business. Per darvi l'idea dell'attenzione che noi abbiamo sulla qualità vi racconto un piccolo aneddoto. Noi tutti i giorni riceviamo dai due ai tre campioni di fave di cacao, perché noi partiamo dalla fava di cacao, lavoriamo esclusivamente il cacao fine e siamo tra i più importanti produttori al mondo di criollo, che è l'eccellenza del cacao. Vi dico che ci sono 3 milioni e mezzo di tonnellate al mondo di cacao, il criollo rappresenta lo 0,01%, quindi saranno circa una mantina, 100 tonnellate, 70 sono nei nostri magazzini ogni anno. Bene, noi riceviamo ogni giorno dei due ai tre campioni, sono due chili. Facciamo la selezione con un cutting test, se superano il test, noi abbiamo un panel. Vedete in considerazione che Domori è un'azienda che ha più del 75% di presenza femminile e la mia prima linea è in maggioranza femminile, il capo della qualità, il CFO, il capo dell'estero. Abbiamo un panel di professionisti, tra cui ci sono anch'io perché c'è un istituto che si chiama l'Istituto Chocolier, l'Internazionale Chocolier, dove si prende, si fa un corso per diventare degli assaggiatori e noi trasformiamo queste fave di cacao in una tavoletta. La ricetta è il 70%, ricetta corta, 70% massa, 30% zucchero di canna. Se supera il test, noi ci mettiamo in contatto con coloro che hanno presentato le fave di cacao e gli raccontiamo che il prodotto non presenta difetti, quindi può entrare nei parametri di qualità dell'azienda. Nel caso in cui invece questo non rientrasse, noi raccontiamo quali sono gli errori che sono stati commessi perché vedete la differenza tra il vino e il cacao è che nel vino conta il terroir, mentre nel cacao conta la genetica e la capacità dell'uomo di lavorare il prodotto in campo. Quindi a volte chi produce le fave di cacao non ha mai realizzato la tavoletta di cioccolato e non sa che effetto fa. Quindi se c'è un errore noi glielo rimandiamo indietro, gli spieghiamo qual è l'errore e se non commetterà quell'errore, perché vuol dire che geneticamente il prodotto ha superato i nostri parametri, diventerà un fornitore di domori. Ecco io penso che la ripartenza debba essere una ripartenza coraggiosa, che faccia leva sulla sostenibilità, sulla biodiversità, sulla qualità, però voglio aggiungere un elemento, vorrei parlare anche di etica. Qui siamo tutti imprenditori, manager, persone che hanno responsabilità, sappiamo quanto è difficile ripartire in condizioni economiche difficili, quanti clienti abbiamo allungato i pagamenti. Ecco io penso che più si è grandi, più si è forti, più bisogna ricordarsi la difficoltà in cui ci trovavamo e far partire quel ciclo positivo etico di pagamento dei fornitori, di rispetto delle scadenze, perché questo permetterà alle nostre imprese, ai nostri clienti, al nostro paese di diventare sempre più forti. Bene, senta, lui ho chiesto quanto è dolce, voi occupate di retail sostanzialmente, avete 30.000 se non sbaglio punti vendita nel mondo, c'è stata qualche punta di amaro invece nel vostro post-covid? 32.810, la punta di amaro diciamo che ci abbiamo lavorato tantissimo, perché comunque sia per un'azienda come Starbucks che nel quarter tree, fondamentalmente a livello globale, ha dichiarato una percentuale del 38% di perdita, quello che ha fatto è investire e ha trasformato l'amaro fondamentalmente in dolce, perché quello che la nostra azienda fa e su cui si basa è il fattore umano. Starbucks fondamentalmente non è un'azienda di caffè che serve persone, ma è un'azienda di persone che servono caffè. e nella missione di Starbucks, che dice proprio ispirare e nutrire lo spirito umano, una persona ha un caffè, un quartiere alla volta, ci sta proprio l'essenza di come è stata creata l'azienda fin dal 1971. Quello che abbiamo fatto quindi abbiamo investito nei nostri ragazzi, ci siamo stretti, ci siamo uniti, non abbiamo abbandonato nessuno e abbiamo creato durante il lockdown per esempio un'accademia virtuale dove i ragazzi stessi hanno nutrito 25 lezioni settimanali tra di loro con fra l'altro speaker anche importanti sia della televisione e non, anche imprenditori, amici che hanno partecipato a nutrire ancora di più tutto quello che c'era bisogno di fare. Fondamentalmente c'è un esempio che vi voglio ricordare. Nel 2017 quando ero a Seattle, nella fase dell'immersione aziendale, a Philadelphia, successe, non so se qualcuno di voi lo sa, uno spiacevole accaduto, cioè all'interno di una storia di Philadelphia fondamentalmente non fu dato la possibilità a due persone di colore di entrare in bagno da uno store manager che si prese paura, chiamò la polizia e queste due persone di colore furono arrestate. Quel giorno lì io ero a Seattle e partecipai ad una riunione dove Aura Schulz in persona convocò immediatamente più di mille persone all'interno del quartiere generale e fece vedere quelle che furono le reazioni la mattina seguente sulla CNN, CNBC e tutto quello che stava creando la situazione. Quest'uomo che fondamentalmente ha creato l'azienda fin da quando sognava di realizzare un qualcosa di più importante e di più grande, non semplicemente un'azienda, si è messo su un palco e fondamentalmente ha iniziato a piangere di fronte a tutte le sue persone dicendo proprio che questa non era l'azienda che lui aveva creato. Allorché sono partiti subito lui e l'attuale CEO Kevin Johnson sono partiti per Filadelfia a vedere la situazione per Filadelfia e tra l'altro una delle città americane con maggiori problemi di razzismo e hanno trovato ovviamente una situazione drammatica. Alcunché sono riusciti ad entrare all'interno di una chiesa in un certo senso e per questo ve lo racconto che mi è venuto in mente, per questo motivo dove una comunità l'ha accolto, hanno iniziato a parlare ovviamente inizialmente sono stati molto aggressivi nei confronti di Starbucks e invece a un certo punto si è alzata una donna e una donna ha detto basta con le offese, basta con tutto ciò evidentemente Dio, non so quale Dio, ha voluto che Starbucks vivesse questa cosa qua e il fatto di alzarsi e dire questa cosa colpì a Warsholz il quale subito disse che cosa vuol dire. Vuol dire che evidentemente solo un'azienda home Starbucks in questo momento può dare un messaggio positivo, quindi trasformando una situazione negativa in positività affrontando il problema. La mattina dopo Warsholz ha deciso di chiudere per due ore 9.800 store pari a 50 milioni di dollari di ovviamente mancate vendite che all'inizio sono stati interpretati ovviamente come una mossa di marketing chiaramente no, perché spesso e volentieri l'essere umano guarda sempre il lato negativo non quello positivo, ma alla fine hanno fatto molto bene ad un'azienda quindi da una situazione negativa, questo è un esempio che condivido con voi e quello che nel mio piccolo ho cercato di fare è trasformarla assolutamente in positiva stando vicino alle persone. Bene, se mi rispondete più brevemente vi faccio un'altra domanda. Allora, il bicchiere di carta in mano, il tipico, è una roba molto angosassone, molto americana. In Italia come è stata presa? Funziona? In Italia è stata accettata in una maniera incredibile e meravigliosa ma uno dei lavori che ho dovuto fare è quello di portare tutti i vice president a giro per tutta Milano, nei vari bar di Milano, per fargli vedere come fosse il servizio di Starbucks. Perché quando, di nuovo era a Seattle, mi presentarono un vassoio con una tazzina di espresso senza un piattino, senza un cucchiaino. Io li guardai e gli dissi, signori, dov'è il piattino, dov'è il cucchiaino? No, non lo facciamo perché per 40 anni non l'abbiamo fatto. E gli dissi, ok, se mi volete fondamentalmente nei guai in piazza del Duomo a scappare dai milanesi e mi rincorreranno, questa è la strada migliore. Sono riuscito fondamentalmente, io e tutte le persone intorno a me, a lavorare su quello che fosse il rispetto verso la cultura. Quindi oggi la Rostre di Milano, che è lo store iconico, è considerato un po' quello store italiano in modo internazionale che ci dà la possibilità di condividere con ogni cliente quello che facciamo. Bene, senta un po'. Voi avete questo progetto criollo, è il top della cioccolata, va bene? Vi dà un vantaggio competitivo rispetto agli altri oppure dovete sgomitare da matti nonostante questo? No, sgomitiamo tantissimo, con una fatica incredibile. Però nel posizionamento di mercato in cui noi ci troviamo ci dà un grande vantaggio, perché basta andare su Google, scrivere criollo, è la prima azienda che esce d'umori. Quindi certamente nello storytelling, come diceva il direttore precedentemente, nel posizionamento del brand, per chi è un grande amante del cioccolato fondente, d'umori ha un posizionamento diverso rispetto agli altri. Però la complessità sta nello spiegare le differenze, quindi siamo obbligati a sgomitare come tutti per cercare di conquistarci la nostra piccola fetta di mercato per farla diventare sempre più grande. Due risposte in un secondo. Voi siete fornitori della Casa Reale Inglese? Sì. Mangia più cioccolata, Elisabetta o Filippo? Questo non lo so, però io posso dire che noi facciamo le uova di cioccolato per la regina e per il principe Carlo, però il principe Carlo le vuole solo biologiche. Va bene. Quanti caffè prende al giorno? Rispondo in litri o in tazzine? Lo faccio a lei. Due giorni fa sono arrivato a 18. Bene, per colpo. Fate una domanda e date una risposta breve, mi raccomando, perché il tempo sta per scadere. Sono quattro minuti per tutti e due. Visto che ultimamente si sta sempre parlando di... o meglio, siamo stati bombardati di negatività tra la stampa e tra televisione e tutto quello che sia. Qual è stato il momento più bello aziendalmente parlando che hai vissuto in questi ultimi sei mesi? Quando dopo aver fatto due settimane di lockdown per la produzione per ragioni di sicurezza e aver combattuto le ultime due settimane ad aprile, il 10 di maggio mi è arrivato un ordine importante proprio dagli Stati Uniti che mi ha permesso di richiamare tutti quanti in produzione e fare per tre mesi consecutivi tre turni, sabato e domenica compresi. Questo è stato il momento più bello. Tocca a lei. Io ho vissuto all'estero, ho studiato e ho trascorso tanti tempi negli Starbucks. Ho bevuto caffè, ho mangiato i brano, tanta poesia, tanta passione che mi sembra comuni molto le nostre due aziende. Quando è Gian Paolo che dai lo scoop alla platea e dici che ci sarà il primo cioccolatino d'umore da Starbucks? Devo dire che ascoltandoti assolutamente condivido quello che rappresentano le due aziende. La fava di cacao è una storia bellissima insieme al caffè e quindi io credo che basandoci sui sogni sarà quello che sicuramente potremo costruire insieme. Bellissimo. Grazie, bravissime. Grazie infinite. Andrea Macchione di Domori e Gian Paolo Grossi di Starbucks. Grazie a tutti.